Con Elettronica Service la casa è ai tuoi comandi, servizio chiavi e radiocomandi per auto e cancelli. Elettronica Service, siamo in corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni, nei pressi dello stadio comunale. Seguici anche su Facebook. Resto, resto al letto, mentre sento già l'odore del caffè. Il sound profondo del blues, il ritmo del jazz, la contaminazione della musica latina e l'identità dell'anima napoletana. Tutto questo racchiuso in un solo nome, Pino Daniele. Il celebre cantautore, dalla voce inconfondibile, scomparso il 4 gennaio dello scorso anno, ritorna a vivere a Cava dei Tirreni grazie ad Anthony Roccolano e al suo progetto Pino Daniele Experience. Previsto infatti per questo sabato 9 luglio, a partire dalle ore 21 al Cinema Teatro Alambra di Cava dei Tirreni, un concerto volto a ripercorrere la storia artistica e musicale di Pino Daniele e a vivere un'esperienza unica nel suo genere. Un'avventura cominciata per gioco, quella di Anthony Roccolano, quando, pubblicando su YouTube una serie di sue registrazioni dei più bei brani di Pino Daniele, ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e contatti in Italia e all'estero. La sua voce, straordinariamente vicina a quella dell'artista, lo ha infatti portato ad esibirsi in molti eventi dedicati a Pino Daniele, tra cui i concerti con Joe Amoruso, storico musicista di Pino Daniele, o dirette radio con Loredana Daniele, cantautrice e nipote del cantante. Il Pino Daniele Experience, in giro per tutta Italia, farà tappa nella città metelliana per un viaggio sensoriale dalle emozioni uniche da non perdere. I biglietti del concerto sono ancora disponibili e possono essere acquistati online sul sito www.postoriservato.it e presso i punti vendita autorizzati.